wow ciao a tutti raga questo è 360 music benvenuti a 360 music ciao a tutti amici di 360 music ciao a tutti da brunch cinema e 360 music brunch cinema yahoo.com lo mandate anche ok ciao a tutti raga voi di 360 music by brunch cinema siamo qui sopra il torione però non mi sporgo perché soffro di vertigini cronica e un attimo che ho fatto così per vedere tutto il panorama mi sono ritirato dentro anche sul torione ragazzi anche sul torione quindi brighiamoci sono cose che non ti aspetti infatti ho preso un infarto un colpo di core al torione andiamo via ciao